Un gazebo in piazza Andrea di Isernia per incontrare gli isernini e parlare del capoluogo, dei suoi problemi, delle sue priorità e soprattutto del suo futuro. Si chiama infatti Isernia che vorrei, l'iniziativa organizzata questa mattina dal coordinamento regionale di Forza Italia e dai ragazzi di FI Giovani Molise che proseguirà anche nei prossimi mesi. L'intento principale è quello di ascoltare quali siano le necessità di Isernia e cosa ci si aspetta per il domani. Un modo, ha spiegato la coordinatrice regionale Anna Elza Tartaglione, nuovo e veloce per indicare quali scelte dovrà fare la nuova amministrazione che verrà. I cittadini hanno avuto la possibilità di rispondere in maniera semplice e veloce ad una serie di domande che toccano vari ambiti e che serviranno a raccogliere dei riscontri sull'attuale situazione cittadina. Il senso di questo gazebo è ritornare finalmente dopo il periodo di SARS-CoV-19 tra la gente. Forza Italia è partita così già nel 1994 con il presidente Berlusconi per la gente e tra la gente, allora ci sembrava giusto dopo questo periodo di fermo obbligato ritornare tra la gente, capire ciò di cui la gente ha bisogno, capire le sensazioni, testare il polso della situazione delle persone, capire di ciò che hanno bisogno, cercare di capire le aspettative di cosa si ha bisogno e quindi abbiamo ritenuto fare questa manifestazione di Sernia che vorrei in maniera tale che le persone possano in maniera anonima e liberamente esprimere ciò che vogliano, ciò che ritengano possa essere utile per la città di Sernia.